Sono 12 gli indagati per un presunto giro di tangente a Taranto nell'ambito degli appalti della Marina Militare. La ripartizione degli stessi avveniva in maniera artificiosa. In questo modo il totale degli importi relativi alle gare veniva equamente diviso, così una gara si trasformava in 11 gare. In tal modo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, le società degli imprenditori coinvolti si aggiudicavano una porzione dei lavori, ottenendone di conseguenza maggiore guadagno. Nello specifico sarebbe andata così per una gara da 3 milioni di euro, ma sarebbe accaduto anche con altri bandi per un totale di più di 4 milioni di euro per un lavoro di ammodernamento e riparazione di unità navali in dotazione alla Marina Militare. I fatti risalirebbero all'arco temporale ottobre-dicembre 2018, secondo il procuratore aggiunto di Taranto Maurizio Carbone, che ha chiesto ed ottenuto dal GIP Benedetto Ruperto 12 arresti, tutti ai domiciliari, per imprenditori, due ufficiali e due dipendenti civili. Tra questi un nome a dir poco eccellente, trattandosi di un ruolo apicale all'interno del contesto militare ionico. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione e furto aggravato. Secondo le indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Guardia di Finanza, sarebbero state pilotate le aggiudicazioni di 15 appalti banditi dall'arsenale e dalla stazione navale della Marina Militare, per un totale di quasi 5 milioni di euro. Il cosiddetto frazionamento artificioso delle appalti originari, sostanzialmente, garantiva ad ogni società gestita dagli imprenditori coinvolti di aggiudicarsi una porzione dei lavori e di conseguire un maggior guadagno. In particolare gli investigatori parlano di un gruppo d'affari che si avvaleva della connivenza di un ufficiale della Marina, che veniva informato puntualmente sia dei nominativi delle imprese partecipanti alle varie gare, nonché del vincitore concordato. Il disegno criminoso ideato, precisano le fiamme gialle, si sarebbe concretizzato attraverso la corruzione di un ufficiale in servizio presso l'ufficio Servizio Efficienza Navi, il quale, per far ottenere all'imprenditore l'affidamento dei lavori necessari alla stazione navale, avrebbe richiesto ed ottenuto in cambio utilità, consistite in elettrodomestici, immobili e lavori di ristrutturazione in un'abitazione di sua proprietà. Un vero e proprio scossone per la comunità ionica, che in verità aveva registrato un altro capitolo simile già in passato nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti pagate per appalti, servizi e forniture commissionate da Maricommi, il commissariato della Marina Militare. Di certo anche in questo caso il troncone d'inchiesta sembra essere piuttosto corposo, tanto da farci sospettare nuovi colpi di scena. Grazie.